E' un'altra cosa che si tratta. E' una sette e tre. E' una sette e tre. Dieci. Ma vai a... No, a scoprire! Quanti scoprire? Mi dovrei occupare... Maria Parisi. Donna. E' donna? Il renato. Il femmero non ti vuole vedere, vai a... Perché la venga pure la femmer. Ma con Maria Parisi. Ora Maria Parisi è matta di buca. Due donne. Non è possibile. 3. 5 scopi. Ma non ti preoccupare. I soldi lo so. Stanno a ca, stanno a ca. Che devi usare? E' un di metterli in sacco. No ma che devi mostrare su I soldi? Ti va a fare 5 scopi. Non ti preoccupare. 5 scopi. 5 scopi. 5 scopi. 5 scopi. 5 scopi. Perché come ti ho detto? 1,6. 6 scopi. 6 scopi. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. E beh cari amici, se a questo punto la matematica non è un'opinione. Io a quanti eva? Opinione? E' matematico. Io andava a 6. E' a 7. E' una 7. 8. 9. 10. 11. 12. E' 7 bello 13. Ma hai fatto il 13? E' la pigliata la 6. La pigliata la 6. E' la piglia la 6. Metterla la 6. I pezzi lo so i pezzi. I pezzi che si aspara! Grazie. 6 scopi. 6 scopi. Non deve aprire la verticale. Non usciva questo con mio guadagnino. Non lo sapevo. Ma fate 6 scopi. Ma non lo sapevo. Ma sono una combinazione, il gioco è una combinazione. Ma sai che vuol dire 6 scopi? Ma che vuol dire 6 scopi? Io non l'ho capito perso. Ti sta vincendo a noi. Ma se ero voi è assaltato o no. Eh Gesù, è chi sei? Mio fratello. Ma poi si è realizzato e è stato ancora assaltato. No, no, tutto completo. Ma si è realizzato. Non ci ha detto niente, ma sei pazzo. Innanzitutto stabiliamo due cose, voglio dire. Sì. Voi la prima cosa ha chiamato con un uomo. Ma voi con un uomo? Insomma. E poi a me la bascia sanità, sai come mi chiamavano? No, scusa. Urrira a scopa. Urrira a scopa. Urrira a scopa. E in America ho continuato la professione, capito? In America ho fatto urrira a scopa. What's the man? Vai, what's the man? Vai, what's the man? Vai, vai, vai. What's the man? Lavoro con tico, lavoro con tico. What's the man? Tu scopirla, se permette. Mi sono urrira a scopa. Sei scopa. Il cae cromo con con tico. Iscriviti al nostro canale. If mommy the man è con Belgia, Atoug pandemic.